Una donna indiana di 72 anni ha dato alla luce il suo primo figlio dopo essersi sottoposta alla fecondazione in vitro assieme al marito 79enne, divenendo la mamma più vecchia al mondo. Il precedente primato apparteneva ad una signora spagnola 66enne. Al bambino è stato dato il nome di Arman, che significa desiderio.